Affondi alternati in avanti. Fai un grande passo in avanti fino a formare un angolo di 90 gradi con il ginocchio anteriore. Alterna la gamba destra e la gamba sinistra. Il ginocchio posteriore scende ma non tocca terra. Quando porti in avanti il piede, la prima parte che tocca è il tallone e poi la punta. Quando ritorni invece, la prima parte del piede che si stacca è la punta e il tallone l'ultima. Molto bene, una rullata del piede mentre vai in avanti e una rullata inversa per spingere e tornare su. Ok, continua. Grazie. 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 Grazie.